Ciao e buongiorno ai ragazzi di Luce, che ringrazio per questa opportunità e per aver ripreso una notizia molto attuale come quella che io ho condiviso sui social settimana scorsa. Per chi non lo sapesse, vivo a Milano e ho cercato una casa in affitto. Mi è stata negata questa casa in quanto omosessuale, in quanto la proprietà voleva delle persone tradizionali. La seconda versione è stata che per tradizionale loro intendessero il lavoro e che il mio lavoro non è tradizionale perché gli artisti sono poco precisi. Ammesso e non concesso che io non sono un artista, ma sono un manager e ho delle società, ho anche delle case di proprietà tra Roma e Milano, quindi sono una garanzia per chiunque mi si metta in casa. Quindi la loro versione fa acqua da tutte le parti. Ora, perché ho condiviso questo video e perché è molto importante? Non tanto per me, perché io sono fortunato, ho una bella vita, ho un bel lavoro. Ho già una casa che a 30 anni oggi in Italia è veramente una rarità. L'ho fatto per tutte quelle persone che non sono fortunate come me e per tutte quelle minoranze. Ricordiamoci che le minoranze non vanno attaccate, è da vigliacchi attaccare una minoranza. Le minoranze vanno protette. Ed è il motivo che mi ha spinto veramente a dire questa cosa e a denunciarla. E sono felice che la stampa nazionale e la tv abbia fatto da eco a questa mia notizia perché c'è un'omofobia e un razzismo latente in Italia e anche a Milano che andrebbe sdoganato. Bisogna difendersi, bisogna proteggersi da queste persone perché è veramente molto grave. E su altre persone meno corazzate di me, meno forti, più piccole, potrebbe avere degli effetti veramente gravi perché io tutto sommato mi so difendere. Pensate se fosse successo a qualcuno meno stabile di me, meno fortunato, meno pronto a ricevere una notizia del genere. Ecco, il motivo per il quale ho condiviso e mi faccio da baluardo per questa notizia è proprio per questo. Affinché altre persone non subiscano quello che ho subito io e che l'impatto emotivo e l'impatto anche proprio pratico nella vita per loro sia minore rispetto a me. Vi ringrazio di questa opportunità e vi lascio una buona settimana. Ciao!